Una doppia ricorrenza impreziosita da una testimonianza speciale. Per celebrare il trentesimo anniversario della sua istituzione, l'ottava edizione dell'Aeropago, la parrocchia di San Paolo a Barletta ha ospitato padre Maurizio Patriciello. Il frate francescano in qualità di parroco di Caivano è diventato uno dei volti più noti della battaglia intrapresa per la rinascita di un territorio inquinato dai rifiuti industriali sversati e poi interrati senza alcuna precazione nelle campagne. Dalla terra dei fuochi a Barletta per portare la sua testimonianza di vita ai giovani, invitati a non arrendersi davanti agli aspetti più cupi della vita. Gli insegnanti ci sono, i maestri ci sono, diceva la buonanime di Paolo VI, il mondo non ha bisogno di maestri, ha bisogno di testimoni, i testimoni ci sono, ce ne sono pochi per la verità. E allora i ragazzi, eccoli qua, adesso si parla delle droghe leggere, del liberalizzare le droghe eccetera eccetera. La droga è droga, la droga è sempre droga, è sempre una sostanza che entra nell'organismo di un ragazzo e te lo può rovinare. Ma perché un ragazzo a 15 anni, a 16 anni, quando la vita gli sorride, tutto è suo, insomma è forte, è in buona salute, deve avere bisogno di sostanze per poter andare avanti nella vita? Questa è la domanda che gli adulti si debbono fare. Perché una ragazzina a 13 anni, 14 anni deve rovinarsi? Ma perché ha bisogno dell'alcol per andare avanti? Sta ragazzina quando la vita è tutta sua, il mondo è suo, no? E sono domande che ci dobbiamo fare. Gli adulti non possono abdicare, tutti gli adulti, a cominciare dai genitori, educare, diceva San Giovanni Bosco, è cosa del cuore. Noi forse sull'educazione abbiamo un po', non dico falliti, io non sono un pessimista assolutamente, dico però forse abbiamo preso qualche abbaglio. La presenza di padre Maurizio ha illuminato la comunità di San Paolo in un momento particolare per la città, costretta a fare i conti con il Covid, ma soprattutto con gli episodi di violenza che stanno sempre più spesso coinvolgendo i giovani. È un particolare momento in cui tutti quanti noi viviamo, non solo per il Covid, ma anche per la città di Barletta, nei dintorni, e la devianza giovanile particolarmente ci sta un pochino colpendo in tanti aspetti. Ecco, Don Maurizio ha calcato molto la mano su questo, partendo proprio dalla sua esperienza personale e dicendoci veramente che certe volte un incontro ti porta alla vita, alla serenità, alla pace interiore e molte volte un incontro ti può portare alla morte, ti può portare alla deriva. E allora l'essere, il sentirsi svegli da parte dei ragazzi e soprattutto anche delle famiglie, questo è un invito molto forte dal nostro quartiere, per la nostra città e anche dove noi lavoriamo e seminiamo.